buongiorno sono davide cerullo e sto qui a darvi una bella notizia ho scritto un altro libro soldatini di piombo per becco giallo è un libro particolare perché si tratta della mia storia ma a fumetti la storia parte proprio da una cosa incredibile che non si possa pensare quella di maturare l'idea di uccidere il proprio padre e quindi questo spiega in qualche modo delinea la radiografia diciamo in qualche modo di come si può arrivare a fare delle determinate cose c'è cosa porta a pensarle cosa scatena quella 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 rabbia che poi sfocia in violenza che non si dovrebbe arrivare non dovrebbe esistere se c'è la possibilità per esempio dell'istruzione che è una cosa che il libro diciamo fa intendere subito l'istruzione che è il più grande atto di democrazia di libertà mancando questo c'è la schiavitù cioè sei schiavo perché non sei libero e non essendo libero non puoi decidere e questo succede a scampia ma succede nelle scampie del mondo e succede perché c'è un contesto che rafforza il fascino alla malavita ma spiega anche certi vuoti perché ci sono e sono dovuti all'assenza totale delle istituzioni dello stato ho fatto dei reati sono stato in carcere ho rischiato di uccidere ho rischiato di morire perché sono stato sparato ho fatto 40 giorni di ospedale e mi sono chiesto ma questo mi è successo perché sono nato a scampia e la mia risposta è stata no non ti è successo perché sei nato a scampia perché potevi nascere a bergamo potevi nascere a torino potevi nascere a modena e fare gli stessi reati mi è successo perché mi sono mancati gli strumenti necessari per potermi difendere e io credo che conta parecchio dove cresci chi è la tua famiglia quali sono i valori di quella famiglia qual è la cultura di quella famiglia qual è il quotidiano di quella famiglia a scampia sta succedendo qualcosa di molto pericoloso e sembra che nessuno se ne stia accorgendo e nessuno ne vuole ne vuole parlare e i figli dei boss che sono in carcere stanno portando in alto l'onore della famiglia e nessuno si chiede cosa stanno combinando abbiamo preso il padre il capo famiglia l'abbiamo messo in carcere sì ma il figlio che sta facendo come sta camminando cosa sta pensando cosa sta organizzando come sta crescendo non ce lo chiediamo poi questo figlio cresce cresce male e lo stato si sente in diritto di dargli lo schiaffo io credo che oggi abbiamo bisogno assolutamente e urgentemente di poesia i poeti sono quelli che ci svelano i segreti delle cose io sono stato riesumato dalla poesia la forza sanitaria della parola essere stati scovati nel posto più maledetto il carcere di poggio reale dove io strappo due pagine del vangelo compie un furto cartaceo ho scoperto che è la vita cioè io pensavo che la terra avesse bisogno di me la la natura gli alberi la terra no e invece no ho capito che sono io che ho bisogno di lei non posso vivere e quindi dopo dobbiamo cercarla ricercarla e possibilmente essere trovati perché sennò non c'è salvezza e nel libro questo c'è ciao